Nella sera in cui la Francia è appesa al dibattito a quattro giorni delle elezioni fra Macron e Le Pen, la Francia calcistica è invece appesa al pensiero della Champions League, frustrato magnificamente dal gol di Guaini, il trentesimo in stagione. Il colpo di tacco di Dani Alves, la gioia del Pipita, Juve avanti 1-0, partita molto equilibrata, al Monaco ha avuto anche delle fasi di buona qualità, ma per il momento la Juve avanti è un risultato ottimo per Allegri, ci fermiamo e poi secondo tempo da Luide. E io pago, e io pago, e io pago, e io pago, e io pago.